Oggi sento proporre addirittura un embargo totale del gas russo, nei fatti assolutamente insostenibile per la nostra economia, sulla base dei fatti di Busha riferiti dal governo ucraino, ma sulla cui veridicità ci sono già molti dubbi. Dovremmo piuttosto mandare un'inchiesta indipendente in Ucraina per indagare sulla reale dinamica dei fatti e sulle reali responsabilità per le violenze e i massacri a danno dei civili. Il sottosegretario generale dell'ONU, parlando al Consiglio di Sicurezza, ha riferito sulle denunce di violenza sessuale da parte delle forze ucraine e delle milizie della protezione civile e l'ONU con la missione umanitaria sta verificando queste accuse. Quindi ulteriori fidanziamenti europei all'industria delle armi o ulteriori sanzioni potranno solo prolungare questa guerra, aumentando il conto delle vittime e aggravando una crisi che colpisce oggi un'Europa già debole. Donato, allora io ho evitato di interrompere, però mi sia consentito di dire una cosa, che quest'Aula non può diventare in alcun modo il megafono di posizioni che sono assolutamente non accettabili. Il massacro di bucia, onorevole Donato, è sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo accettare, lo dico con molta chiarezza, che in quest'Aula venga messo in discussione addirittura questo. I massacri che stanno avvenendo in questi minuti, in queste ore, di civili innocenti, sono sotto gli occhi di tutti. E in quest'Aula non è accettabile che questo possa essere messo in discussione. Quest'Aula, onorevole Donato, non è equidistante. C'è un aggressore, che è Putin, e c'è un aggredito, che sono i cittadini ucraini, che quest'Aula e le istituzioni europee difendono. Se ne faccio una ragione.